buongiorno a tutti sono monica di rega allegri sono appena rientrata a casa ed è abbastanza tardi di solito uno si lascia prendere dal panico cosa faccio per pranzo invece io ho delle ricette che mi salvano queste situazioni oggi voglio raccontarvi cosa farò con il couscous io riesco a fare una ricetta in una quindicina di minuti io qui ho del couscous integrale e volete vedere come ve lo preparo seguitemi e vai con la ricetta buongiorno a tutti 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 buongiorno a tutti